Come vi abbiamo già detto nei precedenti telegiornali, è arrivato ieri in tarda mattinata il via libera alla finanziaria siciliana che ha così evitato dopo 21 anni l'esercizio provvisorio e tutto quello che comporta con la spesa in dodicesimi. 39 i voti favorevoli e 23 i contrari ad approvare il DDL di bilancio e il DDL di stabilità 2024-2026. Approvato anche il maxi emendamento che prevede contributi per i comuni e associazioni e per le parrocchie. Si tratta di un elenco di ben 13 pagine. La finanziaria varata dal governo Schifani contiene sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle imprese, 50 milioni di euro per le aziende che decideranno di stipolare dei contratti di assunzione a tempo indeterminato oppure di trasformare i contratti a termine in assunzioni definitive. Tra le norme una prevede l'assunzione nella pubblica amministrazione di donne vittime di violenza con una deformazione o uno sfregio permanente del viso e anche gli orfani di femminicidi. Si tratta di una integrazione alla legge regionale che già prevede questi benefici per le vittime di mafia. A potere assumere sono la regione, gli enti locali, le aziende sanitarie e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati. La manovra inoltre scrive la parola fine sul precariato dei lavoratori ASU. Via libere inoltre alle norme per la forestazione e alle risorse destinate ai comuni. Approvato anche uno stanziamento di 4 milioni di euro per sostenere le iniziative legate all'evento Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Dal 1 gennaio inoltre è tornato in vigore nell'isola lo stracciabollo. Si tratta della cancellazione di sanzioni e interessi per coloro che intendono mettersi in regola sugli arretrati del bollo auto. La norma resterà in vigore fino al 30 giugno 2024. Per i contribuenti in regola con la tassa automobilistica inoltre verrà applicato uno sconto del 10%, a cui sarà possibile sommare un ulteriore 10% di riduzione del bollo per coloro che sceglieranno la domiciliazione bancaria del tributo.